Ciao a tutti amici di Vanilla. Prima di iniziare questo video devo fare una piccola premessa. Nel prepararlo ho pensato di vedere il film diretto da Giuliano Montaldo, interpretato da un infinito Gianmaria Volontè. Lo confesso non l'avevo mai visto, mea culpa, mea grandissima colpa. Nel film vengono dette tante delle cose che conosciamo già e di cui abbiamo già parlato tante altre volte su Vanilla, ad esempio nella live sul linciaggio degli italiani di New Orleans, ma mi ha colpito un pezzo in particolare quando il procuratore parla di italiani, greci, polacchi e gentaglia simile, come la definisce lui, che va in America a cercare fortuna. Bene, questi immigrati sono classificati come popoli inferiori, culture inferiori, incapaci anche solo di testimoniare un processo, gente che non sa nulla. Inutile specificare che il procuratore, Frederick Katzmann, il cui cognome per noi italiani potrebbe avere un suono un po' nomatopeico, era un razzista. Va bene dire che all'epoca la civiltà occidentale era genericamente razzista. Gli statunitensi guardavano gli italiani immigrati come gentaglia di bassissima lega e a nostra volta noi italiani andavamo a colonizzare in Africa con l'idea di sottomettere popoli incivili. Era un razzismo in prospettiva, sempre relativo al chi guarda chi. Certo, nel caso degli statunitensi era particolarmente strano che se la prendessero con degli immigrati, quando evidentemente anche Mr. Katzmann, o il giudice Thayer, altri non erano che figli o nipoti o bisnipoti di pellegrini scappati dalle proprie terre d'origine in cerca di miglior fortuna in America. Gente che non sa nulla, come dice il procuratore. E sacco e vanzetti non sono solo immigrati, sono anche anarchici che si muovono contro il sistema di potere che sfrutta quelli come loro per arricchirsi. La forza dei soldi, la ragione dei soldi, contro ogni empatia, contro ogni giustizia. Sapete che tengo a essere imparziale in ogni video e non so se con questa introduzione io ci sia riuscito del tutto, ma non mi sentivo di introdurre il pezzo di Nicola Iannuale in modo diverso. Non sarebbe stato sincero. E ora cominciamo. Italy's American Baggage, il bagaglio americano dell'Italia. Così titolava il New York Times nel 2007, quando pubblicò un articolo in cui Andrea Camilleri descrisse il Novecento come un secolo compresso, perché mai in cento anni sono accadute tante guerre mondiali, tante scoperte scientifiche e tecnologiche, tante rivoluzioni, tanti eventi che hanno sconvolto il mondo. Un secolo che, nella sua visione, si configurava come una valigia troppo piccola per contenere tutto ciò che è accaduto. E in quella piccola valigia, dove crimini e misfatti straripavano, ci collocò anche Sacco e Vanzetti, vittime di una controversia giudiziaria che negli anni venti tenne tutto il mondo con il fiato sospeso. Accadde una notte. La mano del boia azionò la corrente elettrica che causò un arresto cardiaco ai due condannati. Il 28 agosto del 1927 le salme dei due anarchici giunsero nel Forest Hill Cemetery di Boston e, l'addetto alla cremazione, compì un gesto simbolico emblematico. Sulle schede numero 10.201 e 10.202, accanto ai nomi di Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, morti il 23 agosto del 1927, indicò l'elettroshock come causa del decesso e aggiunse la dicitura Judical Homicide, omicidio giudiziario. Il suo fu un tacito jacuzzi, una provocazione che rispecchiava il pensiero di chi come lui era consapevole di aver assistito a un processo non equo. Gli assassini erano i giudici, Sacco e Vanzetti le vittime. Vediamo quindi le loro storie. Ferdinando Sacco nacque il 22 aprile del 1891 a Torre Maggiore, in provincia di Foggia. Era il terzo genito di una famiglia di umili agricoltori e, dopo la morte di un fratello minore, ne assunse il nome e cambiò quello di battesimo con Nicola. Crebbe dedicandosi alla vita nei campi, ma a 17 anni le sue ambizioni lo portarono in America, quando un amico del padre invitò suo fratello maggiore, Sabino, nel Massachusetts. Nicola volle accompagnarlo e due si imbarcarono a Napoli sulla motonave romanico. Approdarono a Boston il 12 aprile del 1909 e, dopo circa un anno, Sabino tornò in Italia senza Nicola, che trovò un impiego da calzolaio in una fabbrica di Milford, sposò Rosina Zambelli nel 1912 ed entrò a far parte di un gruppo di anarchici italiani. Da non confondere né con il socialismo né con il comunismo, l'anarchismo era una filosofia politica nata in risposta alle precarie condizioni della classe operaia del XIX secolo. La sua dottrina prevedeva il rifiuto di ogni forma di autorità e la nascita di una società senza Stato, con uguaglianza sociale e un'economia non capitalista. Nel 1916 Sacco ebbe il suo primo scontro con la legge per aver parlato a una riunione anarchica non autorizzata. Fu arrestato e multato. Nel maggio del 1917 incontrò il suo futuro compagno di sventure. Bartolomeo Vanzetti nacque l'11 giugno del 1888 a Villa Faletto, in provincia di Cuneo. Era il primo genito di Giovanna Nivello e Giovanni Battista Vanzetti. Fin da bambino subì le pressioni del padre, desideroso che il figlio diventasse un pasticcere e, in seguito alla morte per cancro della madre, evento che lo segnò nel profondo, decise di abbandonare l'Italia. Contro il volere paterno partì per Le Havre in Francia e da lì salì a bordo del transatlantico La Provence il 13 giugno del 1908. Giunse a Ellis Island poco più che ventenne e cercò di mantenersi facendo diversi lavori, ma le condizioni della classe operaia lo spinsero ad abbandonare l'ottimismo del sogno americano per abbracciare gli ideali anarchici. Intanto, il 6 aprile del 1917, gli Stati Uniti dichiararono guerra alla Germania entrando nel primo conflitto mondiale. Secondo l'ideologia anarchica, era inammissibile che un governo obbligasse un uomo libero ad arruolarsi e combattere contro persone che non gli avevano fatto niente e per uno Stato che non riconoscevano. Per sottrarsi alla leva militare Sacco e Vanzetti scapparono in Messico insieme ad altri compagni. Quando le acque si calmarono, alcuni mesi dopo, Sacco tornò dalla moglie e dal figlio Dante, mentre Vanzetti intraprese il mestiere di pescivendolo. Con la fine della Prima Guerra Mondiale, nel 1918, l'economia degli Stati Uniti risentì dei costi dello sforzo bellico. I prezzi dei generi alimentari si alzarono, disoccupazione e tasso di criminalità crebbero a dismisura e gli scioperi erano all'ordine del giorno. Sul fronte politico, la caduta dello zar in Russia e l'ascesa di Lenin scioccarono gli americani e nacque la cosiddetta paura rossa che, al pari della sua successiva evoluzione, il maccartismo nei primi anni 50, scatenò quella che forse possiamo definire un'isteria di massa e fomentò discriminazioni socioculturali di tutti i tipi. Chiunque non fosse allineato con il pensiero politico della Casa Bianca, poteva essere un bolscevico pronto a rovesciare il governo e gli immigrati. Finirono nell'occhio del ciclone in particolare gli italiani. La propaganda patriottica filo statunitense si scatenò, partì la caccia ai dissidenti. Uno degli episodi più controversi di quel periodo vide coinvolto Andrea Salcedo, inserito dal Dipartimento di Giustizia in una lista di persone sospette che si erano sottratte alla leva militare. Il 25 febbraio del 1920, Salcedo fu arrestato mentre distribuiva degli opuscoli anarchici e l'FBI lo sottopose a un durissimo interrogatorio condito da atroci torture. Alle 4.20 di mattina del successivo tremaggio, infine, cadde dal 14esimo piano del Park Row Building, sede del Dipartimento di Giustizia. Per le autorità si trattò di un suicidio. Per alcuni la sua morte è avvolta nel mistero. In questo clima di tensioni e paura, la mattina del 24 dicembre del 1919 due impiegati della White Show Company, una fabbrica di Bridgewater, erano alla guida di un furgone che trasportava le buste paga degli operai quando una Hudson Overland tagliò loro la strada e li costrinse a fermarsi. Dalla vettura scesero tre uomini a volto scoperto che aprirono il fuoco e tentarono di sottrargli il delaro. La rapina non riuscì, ma alcuni mesi dopo, il 15 aprile del 1920, il cassiere di un'altra fabbrica, la Slater & Morley di South Brenty, fu aggredito da due individui. Con lui c'era una guardia giurata, Alessandro Berardelli, e insieme stavano portando il salario agli operai. Secondo il racconto dei testimoni, Berardelli e il cassiere furono uccisi a sangue freddo e i ladri si impossessarono del bottino per poi salire a bordo di una buic blu scuro con dentro altre due persone. Il caso fu affidato a Michael Stewart, capo della polizia di Bridgewater, che subito propose un collegamento tra le due rapine. Per Stewart i colpevoli erano gli appartenenti a un gruppo anarchico della zona e, a rafforzare la sua tesi, gli agenti trovarono una buica abbandonata in un boschetto nei pressi della casa di uno di loro. Partirono le indagini e uno dei principali indiziati, Ferruccio Coacci, si dede alla macchia e lasciò agli Stati Uniti. Il bersaglio successivo fu Mario Mike Boda, anarchico, amico di Coacci e possessore di una Hudson Hoverland. Stewart ordinò la caccia all'uomo, ma anche Boda svanì nel nulla. Si scoprì che l'anarchico aveva portato la sua auto da un meccanico per farla riparare e decise di tendergli un'imboscata. I gestori del garage furono informati della situazione e la sera del 5 maggio del 1920 Boda si recò da loro per ritirare la Hudson insieme a tre uomini, fra i quali Sacco e Vanzetti. Come da copione, la moglie del proprietario chiamò la polizia mentre il marito temporeggiava, ma Boda si insospettì e scappò in moto. Sacco e Vanzetti invece salirono su di un tram dove furono intercettati e ammanettati. Sacco aveva con sé una Colt calibro 32, Vanzetti un revolver Harrington e Richardson calibro 38. Stewart interrogò personalmente i due immigrati e rimase vago sul motivo dell'arresto. Entrambi negarono di essere anarchici o di conoscere Boda, ma il giorno successivo giunse il procuratore distrettuale Frederick Katzmann e la loro posizione si aggravò. Anche Katzmann era certo che dietro le due rapine ci fossero gli anarchici e, da parte loro, Sacco e Vanzetti erano convinti di essere in stato di fermo per motivi politici o per possesso illegale di armi. Quindi continuarono a mentire e a contraddirsi l'uno con l'altro per scongiurare un'eventuale espulsione. Mentre le indagini proseguivano l'anarchico Aldino Felicani, costituì il comitato di difesa Sacco e Vanzetti, indisse manifestazioni, organizzò raccolte fondi e la vicenda divenne di pubblico dominio. L'istruttoria del caso Bridgewater, priva dell'aggravante omicida, si svolse in tempi brevissimi. Katzmann desiderava archiviare subito la pratica per concentrarsi sugli eventi di South Braintree e Sacco fu depennato dalla lista degli indagati perché aveva un alibi confermato, ma Vanzetti non fu altrettanto fortunato. Il processo ebbe inizio il 22 giugno del 1920 a Plymouth, sotto la presidenza del giudice Webster Fair. Il pubblico ministero adottò una strategia alquanto discutibile che tuttavia si rivelò vincente. Anche Vanzetti aveva un alibi per quel fatidico 24 dicembre. Era la vigilia di Natale e nel suo banco da pesci vendolo vendete delle anguille a dei clienti. Katzmann però giocò d'astuzia e screditò l'attendibilità dei testimoni. Erano tutti degli immigrati italiani, di umili origini e propensi alla menzogna. Almeno così affermò. Il 16 agosto Fair pronunciò la sentenza. Vanzetti fu riconosciuto colpevole di rapina a mano armata e condannato dai 12 ai 15 anni di carcere. Dopo il primo trionfo della giustizia americana, se così possiamo definirlo, Fellicani presagì che anche nel processo di South Braintree Katzmann avrebbe adottato una tattica discriminatoria, perciò sfruttò i fondi del comitato per assumere Fred Moore, esperto in difese di radicali. Moore intuì la necessità di coinvolgere l'opinione pubblica, moltiplicò gli sforzi propagandistici e il secondo processo ebbe luogo il 31 maggio del 1921 ad Edam, in un clima di tensione crescente. Su sua espressa richiesta, Fair tornò a presiedere la giuria. In un primo momento l'accusa si concentrò sulla necessità di riconoscere l'identità dei banditi che avevano preso parte a quella rapina, ma sacco e vanzetti avevano un alibi che in molti potevano confermare. Katzmann allora sfruttò lo stesso escamotage di Bridgewater e i testimoni della difesa furono ritenuti poco credibili per via delle loro origini italiane. I testimoni dell'accusa invece furono presi in considerazione, nonostante le tante incongruenze e contraddizioni. Fra più dubbi che certezze, il processo continuò e Katzmann tentò di dimostrare che l'arma del delitto era la pistola di sacco e che il giorno dell'arresto vanzetti era in possesso del revolver sottratto a Berardelli, la guardia assassinata. Gli esami balistici ne confermarono la tesi, ma in maniera molto vaga e col seno di poi facilmente oppugnabile. Da quel momento il processo si spostò sul fronte ideologico. Per sferrare l'affondo finale Katzmann sfruttò il concetto di consapevolezza della colpa e accusò gli imputati di aver manifestato la loro colpevolezza attraverso una condotta ambigua. Infine evidenziò che si erano sottratti alla leva militare per non servire il paese che li aveva accolti. Le obiezioni della difesa furono vane e il 14 luglio del 1921 la giuria emise il verdetto. Sacco e vanzetti erano colpevoli. La sentenza definitiva arrivò solo sette anni dopo. Nel mentre, il 18 luglio, Moore presentò la prima domanda di revisione del caso. Oltre ad aizzare l'opinione pubblica, adottò una tattica provocatoria nei confronti di Thayer e attaccò personalmente sia lui sia la giuria. L'ideologia politica degli imputati aveva condizionato il verdetto e doveva essere invalidato. Dal suo canto, Thayer fece orecchie da mercante e non ascoltò molti testimoni che avevano affermato di aver subito pressioni dall'accusa. Non tenne in conto che alcune dichiarazioni straripavano di incongruenze e che due ex membri del governo federale si erano fatti avanti per dimostrare che il Dipartimento di Giustizia aveva influenzato il processo. Nel novembre del 1925 si verificò un colpo di scena. Celestino Madeiros, condannato a morte per omicidio e rinchiuso nella stessa prigione di Sacco, professò l'innocenza dei due anarchici e confessò il suo personale coinvolgimento nella rapina di South Brenty, ma si rifiutò di rivelare i nomi dei complici. La deposizione di un criminale era una prova troppo debole, che non avrebbe retto in tribunale, e quindi la difesa tentò di rafforzare l'attendibilità dei nuovi sviluppi. Stando alle ricerche, era plausibile che i responsabili della rapina fossero i membri della banda Morello, legata alla Cosa Nostra statunitense, e alcuni testimoni confermarono la versione di Madeiros. Il 26 maggio del 1926 Moore rappresentò la sesta istanza di riapertura del processo, ma Thayer la rispedì al mittente e, vista la sua reticenza a non fare nomi, giudicò Madeiros un complice dei due imputati. Mentre Moore e Thayer continuavano il loro personale braccio di ferro, Sacco e Vanzetti erano rinchiusi rispettivamente nel carcere di Charlestown e in quello di Dedham. Sacco soffrì molto la lontananza della moglie e del figlio e nel 1923 iniziò uno sciopero della fame che gli valse un ricovero nell'ospedale psichiatrico di Boston, dove fu messo sotto un regime di alimentazione forzata. Quando tornò a Charlestown ebbe una nuova crisi e quattro guardie penitenziarie dovettero immobilizzarlo mentre sbatteva la testa contro i braccioli di una sedia. Da quel momento tentò di suicidarsi ma venne aiutato da alcuni medici e sembra che riuscì a tranquillizzarsi. Quanto a Vanzetti all'inizio sembrò accogliere con stoicismo il verdetto, ma i continui rifiuti di revisione lo resero irrequieto e da gennaio a maggio del 1925 fu ricoverato in un ospedale in seguito a degli episodi di deliri e allucinazioni. Nonostante i suoi tentativi di sollevare l'opinione pubblica contro Thayer, se non prima del 1926, Moore non riuscì a trasformare il caso di Sacco e Vanzetti in un affair, inteso come una macchinazione politico-giudiziaria che, attraverso la legge, vuole liberarsi di elementi scomodi. L'interesse per i due anarchici rimase per molto tempo circoscritto solo a una parte della popolazione, italiani, ma dopo il rifiuto della mozione Madeiros il caso assunse una rilevanza internazionale. Mentre gli intellettuali di Mezzomondo accostavano i nomi di Sacco e Vanzetti a quello di Alfred Riffus, le principali città d'Europa e degli Stati Uniti indissero manifestazioni, scioperi e proteste. Anche l'Italia fascista dimostrò vicinanza ai due emigrati e lo stesso Mussolini si schierò a loro fianco, nonostante l'evidente incompatibilità di visione politica. Grazie ad alcuni documenti sappiamo che il Duce giudicò l'operato del Tribunale di Dedham una farsa ricca di pregiudizi e la sua prima richiesta formale di revisione del caso fu nel 1923, l'ultima un mese prima dell'esecuzione, quando scrisse personalmente al governatore del Massachusetts. La clemenza dimostrerà la differenza dei metodi bolscevichi da quelli americani. Ma purtroppo nessuno riuscì a salvare Sacco e Vanzetti. Dopo otto richieste di revisione respinte e innumerevoli appelli alla Corte Suprema, la giuria di Dedham si riunì un'ultima volta il 9 aprile del 1927. Come da protocollo agli imputati fu concesso di prendere la parola prima della sentenza. Sacco pronunciò solo poche frasi, poi lasciò la parola a Vanzetti, che in un lungo e appassionato discorso di 45 minuti si rivolse a Thayer e riassunse tutte le contraddizioni e le iniquità del processo. Eccone alcuni passi. Io ve li leggo, ma sono un editore e non sono un attore. Vi consiglio di andare a vedere il filmato di Maria Volontetratto dal film Sacco e Vanzetti, a mio personalissimo parele il più bel monologo che si sia mai visto su pellicola. No, non sto esagerando, lo capirete guardandolo. Vi lascio il link in descrizione. Quello che dico è che sono innocente. In tutta la mia vita non ho mai rubato, non ho mai ucciso e non ho mai versato sangue. Sono sette anni che siamo in prigione. Ciò che abbiamo sofferto in questi sette anni nessuna lingua umana può dirlo. Nemmeno un cane che uccide i polli sarebbe stato giudicato colpevole dalla giuria americana con le prove che il Commonwealth ha prodotto contro di noi. Dico che nemmeno un lebroso avrebbe visto rifiutare il suo appello due volte dalla Corte Suprema del Massachusetts. Abbiamo dimostrato che non poteva esserci un altro giudice sulla faccia della terra più prevenuto e più crudele di quanto tu sia stato contro di noi. Sappiamo, e tu lo sai nel tuo cuore, che sei stato contro di noi fin dall'inizio. La giuria ci odiava perché eravamo contro la guerra. E la giuria non sa la differenza fra un uomo che è contro la guerra, perché crede che la guerra sia ingiusta, perché non odia nessun paese, perché lui è un cosmopolita. è un uomo che è contro il paese in cui si trova, e quindi una spia. Non vorrei a un cane o a un serpente, alla creatura più bassa e sfortunata della terra, non vorrei a nessuno di loro ciò che ho dovuto soffrire per cose di cui non sono colpevole. Ma la mia convinzione è che ho sofferto per cose di cui sono colpevole. Soffro perché sono un radicale, ho sofferto perché sono italiano. Ma sono tanto convinto di avere ragione che se tu potessi giustiziarmi due volte, e se io potessi rinascere due volte, vivrei ancora per fare ciò che ho fatto. Infine, Fair pronunciò la sentenza. A Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, colpevoli di omicidio e rapina a mano armata, spettava la sedia elettrica. Con la giustizia ormai dalla parte del torto su iniziativa di William Thompson, nel frattempo succeduto a Moore come avvocato difensore, ai due anarchici non restò che inoltrare una richiesta di grazia ad Alvin Fuehler, governatore del Massachusetts. Sacco si rifutò di apporre la sua firma e scelse o la vita, intesa come assoluzione, o la morte. Nessuna via di mezzo. La domanda di grazia del solo Vanzetti fu consegnata il 4 maggio del 1927. Fuehler aveva il potere di intervenire nelle sentenze emesse nel suo stato e, pur essendo anche lui uno xenofobo come Fair Katzmann, le pressioni dell'opinione pubblica lo costrinsero a cedere e a meditare sul da farsi. Rinviò la data dell'esecuzione, prevista per l'11 luglio, e nominò una commissione di tre membri per svolgere ulteriori indagini, ma dopo due settimane, Abbott Lawrence Lowell, a capo della commissione, confermò che Sacco e Vanzetti erano colpevoli. In base al suo rapporto, Fuehler si rifiutò di firmare la grazia. La situazione era ormai disperata, la data dell'esecuzione si avvicinava e la difesa moltiplicò i suoi sforzi per salvare Sacco e Vanzetti dalla morte. La fine di tutte le speranze arrivò con il rigetto di una nuova istanza di revisione del processo e un'infruttuosa lettera di grazia al presidente Calvin Coolidge. Nella notte tra il 22 e il 23 agosto del 1927 Celestino Madeiros, colui che in teoria le aveva scagionati, precedette i due anarchici sulla media elettrica del carcere di Charlestown. Poco dopo toccò a sacco. Prima di ricevere la scarica mortale urlò, viva l'anarchia! Poi si rivolse alla moglie e ai figli, li salutò, augurò la buonanotte ai presenti e, infine, prese commiato dalla vita terrena. Morì a mezzanotte e 19 minuti e Vanzetti lo raggiunse a mezzanotte e 27 minuti. Strinse la mano alle guardie carcerarie, al direttore del penitenziario, che riaffermò un'ultima volta la sua innocenza. Il 23 agosto del 1977 il governatore del Massachusetts, Michael Dukakis, invalidò ufficialmente la sentenza di 50 anni prima. Dichiaro che ogni stigma e ogni disonore vengano per sempre rimossi dai nomi di sacco e vanzetti. È bene sottolineare che il cosiddetto proclama Dukakis non rappresenta un riconoscimento di innocenza. Senza un equo processo, prove certe da un lato o dall'altro, è impossibile stabilire le effettive responsabilità di sacco e vanzetti nelle rapine di Bridgewater e South Braintree. Perciò, ancora oggi, la dicitura adottata dall'addetto alla cremazione risulta la più calzante. Tutto ciò che sappiamo è che la loro condanna fu una farsa che il 23 agosto del 1927 morirono sulla sedia elettrica per un omicidio giudiziario.